Michè, in dieci anni non hai semplificato l'architettura istituzionale di questa Regione. Perché? Noi elimineremo gli enti inutili e inefficienti e accorperemo le strutture pubbliche con l'obiettivo della qualità dei servizi ed il contenimento dei costi. Michè, in dieci anni hai messo in ginocchio il sistema sanitario regionale. Perché? Noi garantiremo qualità, eccellenza e professionalità al servizio sanitario regionale. Michè, in dieci anni hai aumentato le tasse regionali. Perché? Noi ridurremo la spesa pubblica e abbasseremo le tasse. Michè, in dieci anni hai impoverito la nostra Regione, azzerando lo sviluppo e riducendo l'occupazione. Perché? Perché? Noi rilancieremo il Molise favorendo accesso al credito, aggregazione di imprese, stabilizzazione del lavoro e nuove opportunità. Michè, in dieci anni non hai ridotto i compensi di Presidente, Assessori e Consiglieri. Perché? Noi li dimezzeremo e ridurremo a due i mandati del Governatore. Michè, in dieci anni non hai eliminato l'uso delle 52 auto blu. Perché? Noi ne elimineremo almeno la metà e fisseremo regole rigide per il loro utilizzo. Il Molise ha bisogno di risposte, di verità, di certezze. Ci siamo! Il Molise ha bisogno di risposte, di verità, di verità, di verità, di verità, di verità. Il Molise ha bisogno di risposte, di verità, di verità, di verità, di verità, di verità, di verità. Il Molise ha bisogno di risposte, di verità, di verità, di verità, di verità.